Hanno scelto di chiudere la campagna elettorale senza comizi di piazza, senza incontri politici particolari, ma semplicemente con confronti con elettori e simpatizzanti, entrambi i candidati al ballottaggio di domenica 9 giugno. Qui siamo nella sede elettorale di Angelo Sbrocca, in corso Fratelli Brigida, dove il sindaco uscente sta intrattenendo amici, candidati e simpatizzanti in questo posto che ha fatto un po' di ritrovo per le settimane lunghe e impegnative della campagna elettorale. Ci sono i suoi candidati, a cominciare dalla vice sindaco Maricetta Chimisso, candidati consiglieri, consiglieri uscenti come Oscar Scurti, ma sono diversi quanti hanno deciso di trascorrere queste ultime ore prima del silenzio elettorale, qui tra qualche bottiglia di birra e due chiacchiere insieme. Ecco, questa è la situazione, qui dunque nessun comizio, ma solo uno spirito così quasi goliardico e di amicizia, come sembra anche andare di moda in quest'ultimo periodo, in cui le piazze sono state un po' soppiantate da momenti conviviali differenti. Ecco il sindaco nelle ultime ore prima del riposo e appunto del silenzio che scatterà a partire dalla mezzanotte di oggi.